salve a tutti utenti di youtube da narratore italiano oggi mi appresterò con voi a fare questo test provando a mettere questo telefono smartphone contenuto nella custodia impermeabile all'interno dell'acqua per vedere se questa custodia riesce effettivamente a garantire la protezione a questo smartphone è uno smartphone chiaramente acceso pienamente funzionante e ve ne do prova aspettate che cerco di ecco vedete e adesso farò la prova vediamo che succede l'ho buttato sotto e come potete vedere lo smartphone in questione funziona molto bene vedete voi stessi che non sta avendo problemi di sorta vedete questa è la prova provata del fatto che questo impermeabile effettivamente funziona ecco il telefono quindi mi sembra funzionare alla perfezione posso navigare il lungo e il largo nel mio smartphone personale come sto per l'appunto facendo bene quindi questa diciamo questo test questa prova è andata a buon fine vi ringrazio per l'ascolto e per la visione da narratore italiano è tutto iscrivetevi e al prossimo video